Come il più prezioso dono, ricevuto il che racconta perché fissi Melpignano l'ha scelta per la seconda volta, la prima cinque anni fa sul palco della Notte della Taranta e lei ha accettato. Qui, in questa spianata davanti all'ex convento degli Agostiniani, legata all'evento che porta il mondo in Salento e il Salento nel mondo, Alessandra Amoroso ha portato il suo amore puro tir. Puro come l'energia sprigionata e l'empatia attivata, con questa folla a cantare a squarciagola le hit di una tournée dei record, a seguire il singolo dei record di questa ragazza che con la marrone, pure lei Salentina, Noemi e Mengoni, per citarne solo alcuni, è la prova provata che oltre il talent ci può essere molto di più. Donna e come artista, raffinando tecnica e look fino al successo puro e certificato, 11 dischi di platini, live sold out nei tempi nostrani della musica come l'Arena di Verona. Da lì è partito il suo tour in primavera, poi le tappe stile che riempiono le piazze e i cuori, 20 brani, tra questi gli 11 inediti che concluiranno nel prossimo attesissimo CD in uscita in settembre, quello del sodalizio artistico con Tiziano Ferro che la sottrae dal limbo delle Eterne Emergenti per farne realtà pienamente formata della musica italiana. Dopo questo bagno rinfrancante di salentinità, il tour dell'Amoroso continua per concludersi il 24 a Taormino. Grazie a tutti.